Assessore Cucchiarini, il Paricentro è un'istituzione in cui sempre più si può usufruire di servizi. Vi operano diverse associazioni, sindacati, professionisti e quindi tutte le persone di Fano possono tranquillamente qui venire per avere un consiglio, un aiuto in un momento di difficoltà e oggi si inaugura un nuovo servizio. Sì, sono anche molto contenta di poterlo annunciare. La CISL ha sempre portato un contributo di elaborazione significativo ed oggi mettono a disposizione le loro competenze per uno sportello informativo rispetto a tutte quelle che sono le nuove leggi o le possibilità, i cosiddetti bonus per i genitori. Questo è un elemento importante perché il quadro normativo negli ultimi anni ha fatto qualche piccolo passo avanti nei confronti del riconoscimento innanzitutto della parità genitoriale perché i genitori sono la madre e il padre, nella stragrande maggioranza dei casi poi ci sono famiglie diverse, però le responsabilità sono di entrambi e la legge ha fatto qualche passo avanti anche nei confronti dell'aiuto sia del padre che della madre. Il servizio sarà fruibile? Già da domani e quindi lo sportello sarà il venerdì mattina, a venerdì alterni ed è possibile prenotare come sempre, come tutti gli altri sportelli, direttamente dal sito paricentro.it oppure chiamando l'887 385 oppure venendo fisicamente proprio qui al paricentro con l'operatrice dell'accoglienza che fisserà un appuntamento nei periodi di disponibilità dello sportello. Leonardo Bartolucci, questa nuova iniziativa qual è il fine della stessa? Sì, nasce da una collaborazione con il comune che si è avviata appunto da diverso tempo. Crediamo appunto che il tema come quello della genitorialità abbia oggi tanti aspetti sia dall'innovazione da un punto di vista normativo su tutti quelli che sono gli elementi di diritto ma anche proprio la vicinanza di orientamento su quelli che sono i servizi che accompagnano e sostengono in qualche modo la famiglia. L'idea della vicinanza vuol dire essere anche un punto di riferimento, capaci di produrre un consiglio ma dare un'informazione e anche essere capaci di ascolto, quindi percepire quelli che sono i bisogni per poi essere dei soggetti protagonisti anche nel costruire le risposte più adeguate. Quali sono le novità che si preannunciano per quanto riguarda i diritti e i doveri di una famiglia? Le novità le sappiamo sempre a mano a mano. La cosa più importante adesso che noi dobbiamo cercare di far sapere in giro è che è uscita questa legge, la 105, nell'agosto del 2022 e non si era saputo quasi nulla. Si tratta comunque di una legge che parifica un po' anche la genitorialità del padre rispetto a quello della madre. Sì, tutto del padre. Finalmente siamo riusciti ad avere un po' di respiro anche per il padre perché comunque, come dicevo, portare da un giorno a dieci giorni l'usufrutto di influire di questa normativa non è poco. E' che spesso purtroppo facciamo fatica anche a diffondere queste cose e facciamo fatica anche e soprattutto a farle recepire da chi dà il lavoro.